Il campo basso in guai al Foligno e risolve sostanzialmente la pratica salvezza già ottenuta dai Rosso Blu per gli amanti delle statistiche da confortare con la matematica per quelli del calcio. Vullo e i suoi si avvicinano a un traguardo che era quasi impossibile, solo elogi per una squadra di veri uomini, allora i miracoli non li fanno solo i santi. In Umbria ci sono 20 gradi e circa 200 tifosi di cui una ventina attifare Rosso Blu. Mancano Rice, Marino e Di Vicino per infortunio, nella contesa entrano Petrassi, Curcio e Bussi. Dopo 17 minuti Iuliano esce regolare su Balistreri, non altrettanto su Rampi, il bolognese Benassi lo inserisce tra i cattivi. Fella sembra in palla, fa scrivere prima un tiro che non si chiude a dovere ed era il ventunesimo al trentaduesimo, la traversa lo frena ma anche l'assistente per un offside dà applausi l'invito di Pascucci. Partita che vive di fiammate, il campo basso la interpreta bene, il Foligno combina poco o nulla, il pubblico di casa spesso prende di mira l'ex di turno Balistreri. Gli Umbri si ricordano di accelerare verso la fine, al quarantesimo Rampi si sbarazza di Silvestri prima di consegnare il pallone buono a Balistreri, stoppato in angolo da Boi nel ruolo di centrale. Tutti negli spogliatoi a cercare anche un po' di refrigerio, considerato il primo caldo. I lupi giocano al piccolo trotto, la griff di Maiella è lì nei pressi dopo più di un mese di digiuno. Al quinto è Fella a inventarsi la genialata per far scappare il bomber dietro i difensori, il diagonale chirurgico, Beni non può prenderla. Stop alle sofferenze di Rosario, sarà un gol di Platino, il settimo sigillo in rosso-blu di Maiella. Il Foligno è chiamato a reagire, la salvezza sta quindi diventando un fragile castello di sabbia. Al sedicesimo Fiordani crossa un pallone su cui Balistreri si presenta con un discreto ritardo. Bullo non si siede un attimo, De Petrillo dopo Brunori inserisce anche Tozzi in luogo di Fabio Gatti. Fella al trentaduesimo fa impazzire i locali, prima con un gioco di gambe, poi con un tiro potente. Beni deve distendersi in angolo. Il Foligno cerca di stringere i tempi. Al quarantesimo è Brunori a mettere al centro e Balistreri clamorosamente manca la deviazione giusta sotto rete. Disperato l'assalto locale. Quarantatresimo alto il tiro del neo entrato Fondi. Un minuto più tardi Brunori avrebbe fatto uno a uno ma l'assistente di Benassi è in disaccordo. Brunori era in offside, questa la sentenza. Nel campo basso Maiella e Bussi lasciano il posto a buongiorno ed esposito. Al novantesimo diventa un tiro il cross di Costanzo. Iuliano lo manda in corner con la consueta prontezza. Gli incomiabili giocatori di Bullo vanno a prendersi gli applausi dei tifosi rosso-blu in festa. Capone a fine gara farebbe un monumento ai suoi e starebbe pensando di assolvere la scadenza Covisoc. Questione di ore staremo a vedere, per ora si festeggia l'inestimabile vittoria Umbra. Grazie. 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 Grazie.